Allora, sei pronto Enrico? Sì, sì, ecco. Il mio mal di testa è quasi passato. Bene, perché ci aspetta una giornata pesante, dobbiamo correre dall'altra parte della collina. Sembra che ci sia stato uno scontro armato con morti, feriti e tutto il resto. Sei già? Cos'è successo? Ancora no, ma sarà la solita storia. Droga, droga, droga di qua, droga di là. Ma sarà stato un regolamento di conti tra trafficanti e spacciatori. E purtroppo, come sempre, quelli implicati sono, almeno per la maggior parte, minorenni. Forza, allora, andiamo. Prima ci muoviamo e meglio è. Sì, un momento solo che prendo i documenti e la pistola. Perché in posti del genere è meglio andarci armati. Certo. Mal di testa. È il meno che poteva capitarti dopo quello che hai fatto stanotte. Senti, Liliana, l'ho fatto perché stavo male. Invece adesso ti senti benissimo, vero? No, Enrico, no. Non è questo il modo di risolvere i problemi, né di alleviare il dolore. No, Enrico, è inutile che mi guardi così, perché sei bene e che ho ragione. Santo cielo, non puoi pensare di dimenticare i tuoi problemi bevendo. Ti dà sollievo sul momento, dopo però ti fa stare peggio. Scommetto che... che neanche ti ricordi quello che hai fatto. Guarda, guarda chi si vede. Enrico. Proprio con te desideravo parlare. Parla pure. Preferirei farlo in privato, se è possibile. Sì, sì, certo, stavo giusto per andarmene. Ci vediamo dopo, Enrico. Ciao. Enrico, andiamo. Senti, ho un attimo da fare. Ti raggiungo fra cinque minuti. Va bene, ma non prendertela troppo comoda. No, no. Come vedi ho fretta, perciò cerca di essere breve. Anche perché sai benissimo che a me non interessa affatto parlare con te. Che peccato, Enrico. Sì, perché vedi, nonostante tutto, io ho sempre cercato di aiutarti. Aiutarmi? Scusa se te lo dico, ma il tuo è un modo decisamente strano di aiutare. Molto, molto aggressivo. Ma al di là dello stile, Enrico, ammetterei che il mio aiuto ci ha dimostrato utile. Di fatto, posso darti ancora delle informazioni. Come forse saprai, dirigo io il gruppo che sta cercando tuo padre. Mio padre? Dimmi, dove si trova? A quanto pare non sono io la sua aggressiva. Per favore, Tania. Parla. C'è un piccolo problema. L'unica persona che sappia con sicurezza dove si trovi ora tuo padre è Marina Contrevi. Sì. Non guardarmi con quella faccia. Non si tratta di una mia invenzione. L'unica persona che sa davvero dove si trova tuo padre è la tua cara Marina Contrevi. Per quale motivo lo sta nascondendo? Che intenzioni ha? Che intenzioni ha? Non lo so. Io credo che stia approfittando della situazione. Non riesco proprio a crederlo. Vuoi sapere come la penso? Marina è convinta di proteggere tuo padre. Non lo consegna per salvargli la vita, ma al contrario così. C'è il rischio che durante le ricerche qualcuno possa sparare e nel conflitto lui potrebbe essere ucciso. Enrico, senti, voglio farti una domanda. Tu non provi alcun disagio per il fatto di essere figlio di Eugenio Mercadante? Te lo chiedo perché, sai, presumo che sia una sofferenza avere il padre ricercato, accusato di aver commesso una serie di atrocità, la madre in prigione per complicità. Ecco, non so. Sarò sincero con te, Hugo. Io non mi sono mai occupato di politica. Anzi, me ne sono sempre tenuto piuttosto distante. All'inizio per superficialità e perché mi occupavo di altre cose. E poi perché mi sono reso conto di governare il governo di mio padre. Così ho abbandonato la mia famiglia. Eppure, nonostante tutto, sono preoccupato. Sono in pensiero per la sua situazione, le difficoltà in cui lui si trova attualmente. E per quanto riguarda mia madre, tu capisci, è mia madre. Devo fare per lei tutto ciò che mi è possibile, tutto. Sono Marina e... Marina, so che tu hai notizie di mio padre. Voglio che mi dica subito dove si trova. Ho il diritto di saperlo, è mio padre. Io non so niente. È inutile negare. Tania mi ha raccontato tutto. Tania è in pazza. Mi ha detto che tu sai dove è, anche che lo stai nascondendo. Lei non sa quello che dice. Io adesso pretendo che tu mi dica dove sta. Non uscirai da qui se non me l'avrai detto. Parla, avanti. Sì, è vero, Enrico. È vero. Sapevo che tuo padre viveva nella baracca dove tu mi trovasti. Perché non me l'hai detto allora? Sapevi che lui era lì e non mi hai detto niente. Enrico, tuo padre stava male. Delirava, era come pazzo. Non so cosa avesse, ma mi accorse che con lui c'era tuo figlio. Così la prima cosa che pensai di fare fu di convincerlo a dare a me il bambino per riportartelo. Il giorno in cui tu mi hai seguito fino alla baracca ero andata appunto a trovarlo, ma non c'era più. Da allora non ho più saputo niente di lui, te lo giuro. Non ti credo. Non posso crederti e sai perché? Perché Tania mi ha detto che lo stavi nascondendo. Per qualche, per qualche ragione particolare, non so quale. Questo non lo so. Povero Enrico, quanto sei ridicolo. Che ragione avrai avuto per nascondere tuo padre? Avanti, sentiamo quale. Vuoi sapere una cosa? Io non l'ho denunciato, non l'ho consegnato nelle mani dei guerriglieri solo perché non ne ho avuto il tempo. E non guardarmi con quella faccia. Perché in fondo sarebbe stato meglio per lui, sai? Se lo avessi denunciato a quest'ora non sarebbe in giro braccato come un animale, ma in prigione dove è giusto che stia. Ah certo, allora la tua intenzione era quella di salvare mio padre, giusto? Volevi evitare che lo uccidessero? Ah certo. Beh, senti, pensa pure quello che vuoi Enrico. Perché io a questo punto sono stanca di darti tante spiegazioni. Pensa quello che ti pare. Scusa.